Eccoci qua, uces ragazzi ragazze ragazze eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video Allora, oggi niente spilling the tea perché dobbiamo spetteguler sulla mia vita o meglio sulla mia casa, quella toscana che vi ricordo come sempre vi sto facendo domaroni grossi così che sto ristrutturando o meglio devo ancora iniziare ma ci siamo e i lavori tra pochissimi giorni, tra pochissime settimane inizieranno perché abbiamo ben o male io e il mio babbo deciso tutto ma se voi avete visto l'ultimo vlog che vi ho pubblicato qua su youtube ormai la scorsa settimana in cui appunto ero sceso in toscana per decidere le ultime modifiche a questa casa saprete che io in poche parole ho anche super giù litigato con il mio babbo in quanto le mie idee non corrispondevano alle sue e ho scatenato il putiferio nei commenti ragazzi perché ovviamente siccome non vi ho dato poi nessun'altra spiegazione vi siete posti moltissime domande e quindi io le ho raggruppate tutte e oggi un video un po' così chiacchiericcio in cui ci rilassiamo voi mettete mi piace a questo video voi continuate ad iscrivervi mi raccomando perché tra pochissimo e mio planno io vorrei arrivare per una volta a un obiettivo me lo fate raggiungere voglio arrivare a 450.000 iscritti ne manca quanti 7.000 su per giù create 7.000 profili fake e iscrivetevi vabbè a parte i scherzi sarebbe un bellissimo regalo fatto sta mettetevi comodi prendete il vostro drink il vostro snack se siete a dieta bevete acqua ma chiacchieriamo un po' delle novità di quest'asa perché veramente da quando vi ho fatto il video a oggi ci sono state tantissime cose nuove che non vi ho raccontato e che non vedo l'ora di raccontarvi iniziamo dal principio io l'altra volta vi avevo detto che la mattina dopo avevo appuntamento col geometra per fargli vedere la casa e per fargli vedere insomma tutti i lavori che avevo in mente di fare mentre dall'altra parte ci sarebbe stato il mio babbo che gli doveva far vedere i lavori che voleva fare lui ok che aveva in mente di fare lui ovviamente siamo andati io il mio babbo geometra in casa e lui io vi giuro guarda non sto praticamente incrociando niente vi giuro che lui passo dopo passo stanza dopo stanza ha avuto delle idee che corrispondevano casualmente con tutto quello che volevo fare io e che mi babbo il giorno prima mi aveva vietato o meglio più che vietato mi aveva bocciato come idee per esempio il fatto del pavimento ha dato ragione a me ovviamente in tre secondi ha detto si può sistemare tutto come seconda cosa che l'ha data vinta a me è stato il bagno anche lui era dell'idea di rifarlo tutto e di farlo insieme a tutto il resto dei lavori perché anche lui era dell'idea che avrebbero poi fatto casino i muratori perché comunque rifar bagno devi distrugge tutte le mattonelle devi portare via le ose devi cambiare di lì devi fare la doccia così fai casino e quindi è inutile farlo in un secondo momento anche perché anche lui era dell'idea che il bagno ok era comunque ristrutturato che ha 12 anni ma non va più non è un bagno per giovani non è un bagno per me e io vi giuro ancora una volta che io non gli avevo detto nulla perché era la prima volta che lo incontravo e quindi ragazzi ragazze ragazzo ho vinto io avrò la doccia più grande e soprattutto rifarò il bagno insieme a tutto il resto ora dipende quanto costa però vabbè piano piano faremo tutto terza cosa che mi ha dato ragione è stato fare la casa domotica e quindi anche avorgibili voi richiamate tapparelle di toglierci quel cavolo di coso manuale e di metterci i tasti come avevo richiesto io e che mi padre aveva detto è una cosa inutile da fare ma siccome lo ha detto il geometra che è uno che ha studiato e quindi ne sa più di me allora lì ha cambiato idea ha detto va bene allora lo faremo sono soddisfatto di me perché nonostante non sia il mio lavoro appunto e molti pensino che io sia un idiota in giro per il mondo che pensa soltanto al gossip becero di periferia ho dato prova al mio babbo che anche io valgo qualcosa che nonostante tutto posso cioè le mie idee contano e valgono perché sono idee che persino il geometra che lo fa di lavoro ha avuto senza che io gli dicessi niente c'è stato un cambiamento però vi ricordate che vi avevo detto che tra la stanza della cucina e quella della sala da pranzo io volevo buttar giù una parete e lasciarci l'altra lui mi ha dato ragione ha detto va benissimo anzi così si apre ancora di più ma mi ha consigliato di buttar giù anche parte dell'altra parete e di lasciare giusto un 65 70 centimetri per aprire ancora di più la stanza ma comunque per lasciarci una chiusura per i mobili della cucina e quindi è stata una bellissima idea e quindi farò come mi ha detto lui tra le altre cose mi ha dato ragione anche per il bancone che io volevo metterci con la cucina per me fa per farci poi colazione con i vari sedili a modibar ultima cosa a cui mi ha dato ragione anzi no penultima cosa a cui mi ha dato ragione è stato il togliere la porta della sala da pranzo con il resto quella che io ci volevo la volevo togliere per farci un arco un arcata e lui ha avuto questa splendida idea ma perché qui non allarghiamo questa porta la togliamo e ci facciamo un bell'arco o un mezzarco o quello che ci che volete ragazzi voi non potete immaginare quella mattina io quanto ero un brodo di giugiole quanto io mi stessi gasando perché lui raccontava diceva cose proponeva cose che io al mio babbo l'avevo già detto da mesi e quindi dandomi ragione anche se non lo sapeva io mi sono sentito non lo so super orgoglioso di me e ultima cosa a cui mi ha dato ragione pur non sapendola però poi io glielo ho parlato e quindi mi ha detto assolutissimamente sì è stato il fare vi ricordate che io vi ho detto che in alto per una parte della parete ci dovevano passare dei fili e quindi ci avrebbero fatto una cosa di cartongesso io gli avevo detto senti ok cartongesso ma si può fare una ossa carina magari anche un po più grossa e riempirla poi di led per tutto anche magari il come si chiama il il corridoio dato che il corridoio comunque anche se un po più piccolo ci rimarrà e lui mi ha detto assolutissimamente sì anzi te lo stavo per proporre io perché così viene anche una cosa un po più bellina quindi ragazzi ho vinto ho vinto su tutta la linea riguardante questo combattimento cormibabbo ora diciamo vi devo dire la verità non è che abbiamo litigato però mi ero un attimo spazientito perché appunto avevamo visioni diverse ve l'avevo raccontato e infatti voi mi avete fatto anche delle domande e adesso risponderò a tutte non vi preoccupate però ci tenevo a dire come primo argomento questo fatto del geometra che ha dato ragioni a me ovviamente adesso tutto in mano sua lui si farà una specie di piantina come vi ho fatto vedere io per vedere proprio al cento per cento tutti i lavori se si possono fare benissimo o magari se c'è qualche problema poi so che in questi giorni lui i muratori l'elettricista mi sembra si uniranno in una riunione insieme al mi babbo perché si devano in qualche modo come posso dire organizzare per far sì che tutti i lavori possono iniziare insieme ovviamente poi verrà anche avvertito il comune dei lavori e quindi poi poi inizia tutto mi rimane soltanto da scegliere tra queste prime cose perché di infissi l'avete visti la porta non ve l'ho fatta vedere ma comunque super giù è uguale alle finestre e bisogna cambiare i radiatori per mettere tutto elettrico tutto così devo scegliere il pavimento ma anche lì ho delle idee ma piano piano magari ve le farò vedere quando tornerò in toscana adesso rispondo alle vostre domande sul sul fatto della mia nuova casa in toscana perché ovviamente vi ho un po confuso perché vi ho parlato così un po pizzico e bocconi la prima domanda quella più che mi avete fatto più insistentemente nel vlog in cui vi parlavo del mi babbo è ma perché vuole decidere il tuo babbo se la casa è tua allora non è che vuole decidere il mio babbo ora io sono qui che lo difendo la casa è mia nel senso quando morì quando morì il suo zio che era il padrone di questa casa ovviamente la casa andò poi al mio babbo e ai su fratelli che sono i miei zii il mio babbo cosa fece comprò la loro quota e quindi poi la intestò a me e al mio fratello quindi quella casa è mia e del mio fratello e qui arriva poi anche la domanda successiva ma ora bisogna parlare del mio babbo quindi la casa è mia ok è stato un regalo che mi ha fatto lui va benissimo perché io lascio decidere il mio babbo allora non è che lascio decidere lui non è che quello che dice lui è legge ma ovviamente essendo che è il mio babbo essendo che ho una un'opinione comunque del mio babbo e lo reputo una persona che ci capisce qualcosa è normale che tutto quello che dice tutte le idee che ha io ne tengo conto poi comunque alla fine la casa è mia nel senso ci dovrò andare io a vivere prima o poi forse e quindi è normale che la voglio trasformare come piace a me e tra le altre cose è anche normale che lui ha delle idee diverse dalle mie perché c'è un gap generazionale non indifferente perché è il mio babbo e quindi le cose che garbano a lui è normale che siano diverse da quelle che garbano a me io per farvi un'idea ho un'idea di casa di quelle super moderne di quelle che non hanno un'anima ok di quelle tutte neutre con colori pastello ma comunque bianco beige grigio così non ci deve avere un'anima io le voglio fredde io la voglio fredda perché è lo stile che piace a me lui invece la vuole un po più casereccia un po più toscana un po più vecchiotta siamo diversi magari a voi piace più il suo stile ma a me piace quell'altro deve essere una asa moderna una asa che non vi dà calore deve essere fredda detto questo ovviamente siccome il mio babbo è navigato in esatto di me io gli ho detto le mie idee ma lui d'altra parte alcune me le ha bocciate perché magari pensa che sia uno spreco di soldi inutile anche perché tutti i lavori che voglio fare io mi viene a mi viene mi vengano a costare un monte di sordi solo per rifà tutte le finestre mi hanno chiesto più di 20 mila euro quindi il fatto che il mio babbo non sia d'accordo con me non era d'accordo con me con alcune cose con alcune decisioni io non l'ho presa come mi vuole tarpare le ali vuole fare come dice lui ma l'ho presa come un aiuto proprio per non farmi spendere più soldi del dovuto ok per non lasciarmi in bancarotta secondo me io l'ho presa così ma comunque il mio babbo mi vuole aiutare ragazzi ma al tempo stesso vi ripeto l'ultima decisione è mia perché appunto poi ci devo andare io forse nel caso nel caso in cui non deciderò poi di vendila dipende da qui ci uniamo alla domanda che sarà venuta a tutti perché vi ho parlato di mio fratello come funziona questa roba o qui vi devo dire la verità mi confesso con voi è un po problema nel senso è un azzardo dato che la casa è mia e del mio fratello a 50 e 50 molti quindi si domanderanno e penseranno quindi i lavori li pagherete a metà no ragazzi li pago io perché i lavori li voglio fare io io prima di parlarvi di tutto questo prima di decidere con il mio babbo tutto questo della ristrutturazione ho parlato con il mio fratello io ho detto senti ma che ne vuoi fare di questa casa ti interessa hai voglia di fare qualcosa mi lasci carta libera e lui mi ha detto io non voglio sapere nulla no appena rifatta ora quella con la sua ragazza che diventerà poi la sua moglie il prossimo anno facci quello che ti pare a questo punto io avevo pensato a una cosa ok do do la parte di soldi che vale questa casa in questo momento prima della ristrutturazione al mio fratello perché così almeno gliela compro e diventa mia al cento per cento ci posso far quello che mi pare l'inizio era quello però poi io ci ho pensato no e ho pensato a questa cosa io alla fine quando muoio quella casa se fosse tutta mia rifinisce comunque al mio fratello come eredità se lui dovesse vivere più di me penso e spero di sì o comunque andrebbe ai suoi figli se dovesse averne quindi io ho pensato ma mi sembra inutile spende non lo so 70 80 90 mila euro quelli che sono ora per ricomprargliela se poi tanto alla fine gliela devo ridà ok e quindi ho pensato a questa roba no sarà sempre mia e del mio fratello ok quindi io non non comprerò al momento ho questa idea poi magari se mi conviene parlerò ancora con mi babbo e con chi di dovere e vi aggiornerò però io ho pensato così rimarrà sempre 50 e 50 i lavori me li subisco io me li appioppo io spendo tutto io ma ho chiesto al mi babbo di chiedere al notaio se si poteva fare una specie di foglio in cui mi fratello dichiarava che comunque tutte le spese le ho fatte io che lui non non ci rincastra nulla e soprattutto che nel caso in cui ci voglia andare a vive io ci posso andare a vive senza che lui mi rompa le palle fino a quando io sono in vita il notaio ha detto sì si può fa effettivamente e quindi probabilmente farò così voglio far così per ma nel caso in cui la dovessi mettere in vendita o ci dovessi mettere qualcuno come inquilino ha in affitto rimarrebbe comunque 50 e 50 e qui voi direte ma non è giusto perché comunque lui si prenderà la fetta anche più grossa perché dopo la ristrutturazione è normale che la casa valga di più ma io ho detto ho pensato vabbè ma sarebbero comunque soldi che non gli sto dando ora comprando la sua parte alla fine poi è comunque parte della mia famiglia o si spera di non litigare mai più si spera che boh lui non si lasci mai e che non abbia mai bisogno di una asa diciamo sì per il momento è questo è un po boh scricchio la secondo me questo piano ma spero nella sua bontà diciamo sì chiuso anche questo rispondo ma vi ho già risposto a inizio video alla domanda ma perché scusa un t'affidi a un geometra perché un t'affidi a un architetto invece di parlarne solo corto babbo ve l'ho già detto ci siamo affidati a questo geometra farà tutti i lavori che deve fare farà tutti gli studi che deve fare ma vi ho ma vi ho già detto che per il momento sta dando ragione sempre a me e quindi sto vincendo io e quindi sono super contento non sono per niente combattivo io per niente vi ho risposto anche quindi alla domanda ma perché non rifai il bagno ma sei pazzo perché vi ho detto appunto che abbiamo cambiato idea grazie al geometra che mi ha dato ragione elesimamente e quindi il bagno lo rifaremo insieme al resto della casa adesso la prossima domanda che mi avete fatto riguarda appunto la domotica e fare tutta la casa elettrica perché in molti mi avete detto guarda è un rischio fare la domotica perché non è molto sicuro metti caso che ti viene un blackout rimani bloccato ragazzi me la volete fa proprio me la volete gufa proprio a diritto no anzi addirittura c'è una persona che mi ha anche detto se dovesse venire un alluvione come già avvenuta lì in toscana rimani fregato allora la mia la zona dove è quella casa non è a rischio alluvione non ce n'è mai stata una e quindi a regola è salva la seconda osa del blackout vabbè può succedere ma cambieremo tutto l'impianto elettrico con più watt addirittura vogliamo metterci anche sopra il tetto installarci le cose solari no per l'energia solare e quindi sprecare meno energia però siamo nel 2024 tutte le case nuove sono domotiche tutte le case nuove hanno le cose elettriche e quindi ci sono io per continuare a zappare la terra quando in realtà adesso ci sono i trattori per farlo altra domanda gli hai chiesti permessi sì lo stanno richiedendo in questi giorni e quindi tutto a posto tutto a regola anche perché se no non ve ne parlerei qua su youtube e fare le osse di nascosto quanto si costa il tutto è stata una domanda molto richiesta non lo so raga però io penso che a questo punto potevo comprarmi un'asa nuova già fatta perché sì ma a regola dovrebbero esserci degli incentivi non ci dovrebbe più essere il 110 per cento perché l'hanno tolto ma qualcosa comunque posso recuperare o posso risparmiare e quindi mi verrà a costare tanto penso di sì perché vedendo già solo gli infissi che ho già detto che per ora è l'unica cifra sicura che so che devo spendere mi è preso un mezzo infarto ma quando saprò tutto il resto vi farò sapere vi aggiornerò e spero il prima possibile che inizino lavori perché io non vedo l'ora di farvi l'home tour di casa finita perché quella che ho nella mia mente spero che rispecchi poi quella che arriverà al finale però con tutti i costi si faremo poi tutto i tutti i calcoli alla fine ultima domanda per oggi è tornerai quindi lì a vivere quando finiranno lavori quanto pensi che durino allora secondo me un annetto io m'ero dato tempo un anno un anno e mezzo di lavori il mio babbo all'inizio mi ha detto boh magari anche meno ma poi a volte mi ha fatto per tutta la mole di lavori che c'è da fare forse ce ne vorrà anche i due e secondo me questo tempo questa tempistica è la tempistica migliore perché nel frattempo io in questo momento vi dico no non ho intenzione tornare in toscana voglio rimanere a milano ma siccome dovrà passare secondo me penso un anno un anno e mezzo ho tutto quest'anno e mezzo tutti questi mesi di tempo per pensare se magari tornare lì una volta finita oppure rimanere a milano in due anni in un anno e mezzo può succedere qualsiasi cosa io spero comunque di continuare ad essere qui in vostra compagnia ma nel caso in cui dovessi cambiare idea almeno so che ho una bella casa ristrutturata nuova pronta per me ok quindi il mio piano a non è quello di tornare lì subito però potrebbe essere un piano b molto perfetto e può magari diventare un piano a dipende da vari fattori lo sapete c'è mark dipende dal lavoro dipende da questi queste ose qui a milano di come continua la situazione se cambia se tracolla così dipende da tante ose che non sono dovute da a me ma da fattori esterni ma comunque ho in mente varie strade perché io la casa l'ho voluta ristrutturare per farmi tornare più spesso in toscana e soprattutto per starci più tempo perché sapete che io quando scendo in toscana ultimamente ci sto sempre due tre giorni massimo ma semplicemente perché non ho tutta l'attrezzatura per fare video e non ho il mio spazio non ho la mia privacy per fare video quando voglio e quindi mi scoccia un po e mi scoccia e ci vado anche poco rispetto a quello che vorrei perché mi scoccia ogni volta fare in su e in giù prendere 800 treni e perdere quattro ore della mia vita ogni volta per poi starci un giorno per poi starci 48 ore quindi la mia idea iniziale di ristrutturare questa casa dato che era lì che aspettava solo me è quella di usarla come base quando scendo in toscana per poi poterci stare anche più tempo posso fare nessuno me lo vieta perché comunque io adesso l'affitto qua per quattro anni e quindi nessuno mi vieta di fare un mese lì un mese qui tre settimane scendo giù tre mesi ritorno qua insomma mi piace questo fatto che ho molte più prospettive una volta finita la casa e quindi il mio piano a è stato ristrutturo quella casa perché mi serve come appoggio quando torno in toscana così ci posso stare di più così posso fare quello che mi pare perché appunto dobbiamo farci anche lo studio e tutto quanto però non ci vado a vivere di impianta stabile poi non si sa mai dovessi aver bisogno di soldi impellenti perché boh ci sono delle cose che non dipendono da me una volta ristrutturata quella casa varrà di più e quindi la potrò vendere dipende da che prezzo è vero che poi va divisa col mio fratello ma comunque sono soldi che arrivano vedo e capisco che ok il mio futuro ancora per molto sarà qui a milano la metto in affitto e così almeno riprendo qualcosa non ho voglia di metterci in affitto una famiglia perché boh ho paura che non mi paghi l'affitto fanno casino b&b affitti brevi ora è vero che quella zona non è molto turistica ma comunque qualcosina ci posso riprende e comunque così qualcosina ci posso fa insomma le variabili sono molte le cose pensate sono altrettante però appunto la vita poi quello che ci riserva un si sa mai l'importante è averci sia un piano a sia un piano b e avecela pronta quella casa e spero appunto con tutto il mio corathon che i lavori dal momento che vi pubblicherò questo video inizieranno a breve lo spero anche perché poi c'è l'estate di mezzo quindi bisogna vedere però almeno gli infissi almeno i primi lavori io spero di portarli a termine entro la fine di luglio lo spero veramente perché se no è un casino se mi fa la fine della macchina che ho comprato un mese fa e che ancora un si sa nulla che ancora non esiste vediamo però o incrociamo le dita sono super contento comunque vi dico e vi dico anche che sono super orgoglioso no di questa cosa nuova nuova che mi ha diciamo travolto no a inizio di questo anno e quindi e sono anche contentissimo di condividere questa cosa con voi perché boh è una cosa carina della mia vita e quindi mi fa piacere insomma parlarvene farvi vedere tutto e piace anche questo fatto che voi l'avete vista anche adesso in che condizioni è ora perché così possiamo fare poi alla fine il confronto finale e mi potete dire cristiana ma che bella oppure cristiana era meglio prima spero di no perché se no vi banno ve lo dico subito no sto scherzando però insomma vi ripeto sono molto contento sono molto soddisfatto di questa cosa che è arrivata nella mia vita e che ho voluto fare e quindi spero che vada tutto bene detto questo però per il momento le curiosità a cui dovevo rispondere ho risposto se ne avete altre fatemelo sapere qua sotto tramite commento fatemi sapere anche tutto il resto se avete idee se avete cose se avete una cucina da regalarmi per sponsorizzazione perché allora io vi posso dire una cosa questa è una piccola polemia che tanto sapete che mi do la zappa su piedi da solo ma tutti gli altri che fanno i video o fanno delle storie che dicono ristrutturo questo ristrutturo quest'altro compro questo compro quest'altro sono inondate da richiesta da qualsiasi poltrone sofà divani e divani ikea le cucine la fiammata dagli italiani su te che gliela regalano praticamente fanno l'asta gratis e io che visto che sto praticamente registrando qualsiasi cosa ovviamente per altri motivi e quindi per ripagarmi un po anche tutti i lavori ma soprattutto per rendervi partecipi o ci fosse stata una grande azienda che mi ha detto o mi raccomando boh ti regaliamo una poltrona quando fai il salotto nuovo non dico una cucina antera ma un accessorio un qualcosa vabbè lasciamo perdere purtroppo nella vita c'è chi è fortunato e chi è sfortunato io sono sfortunato in questo frangente e per tutto il resto sono molto fortunato fatto sta ragazzi adesso che la mia dignità è andata a puttanere perché ho praticamente pregato il ginocchio per farmi regalare un microonde io direi che questo video è finito qua siamo arrivati alla fine vi ho raccontato tutto quello che dovevo dirvi spero di avervi fatto compagnia e spero di avervi fatto anche contenti e soprattutto di avervi sciolto qualche dubbio che avevate riguardante la mia nuova casa per oggi è tutto smetto di parlare iscrivete al mio canale mi raccomando e ci vediamo domani con un nuovo video ciao